I nostri veri nemici sono i veleni mentali, afferma il Dalai Lama, l'ignoranza, l'odio, il desiderio, la gelosia, l'orgoglio. Sono gli unici capaci di distruggere la nostra felicità. Nel mondo di oggi veniamo costantemente sommersi da input esterni, dall'incremento di emozioni, dalla sollecitazione degli istinti, dal bisogno di desiderare. Come un cane stuzzicato dall'osso lanciato dal padrone, i nostri aguzzini sono i mezzi di comunicazione, le pubblicità invasive, gli esperti di marketing e tutti coloro che in un modo o nell'altro guadagnano e speculano sulla nostra pelle. Ogni giorno nuovi bisogni e desideri vengono inventati al solo scopo di deviare il nostro percorso verso la liberazione, renderci insicuri, impotenti e infelici. Alcuni diranno che male c'è a desiderare qualcosa? Dobbiamo per forza essere degli asceti del deserto? Ovviamente non c'è nulla di male a desiderare qualcosa, purché il desiderio sia lecito. Un desiderio possiamo definirlo lecito soltanto quando risponde realmente alle nostre necessità, senza stuzzicare o alimentare nuovi bisogni in un circolo senza fine. Quando un desiderio è lecito come il desiderio di mangiare un buon cibo, una volta appagato resta appagato, non si converte in un altro desiderio analogo. Un desiderio è lecito se, oltre a farci del bene, non reca danno a nessuno. Il desiderio del sesso, del gioco, dell'alcol, non possiamo definirli leciti perché, per loro natura, la loro prama è senza fine, non possono mai essere appagati realmente. E persino il desiderio di un buon cibo, se non gestito e controllato, può convertirsi in un desiderio illecito. I casi frequenti di obesità ce lo dimostrano ogni giorno. Tutto ciò che è di natura materiale non può recare reale giovamento all'essere umano, che per sua costituzione ha bisogno, per essere felice, di cibo spirituale. E quale cibo migliore dell'amore, dell'amicizia, della cultura, della ricerca spirituale, del bisogno di Dio? Abituiamoci a desiderare solo cose buone, per noi e per gli altri, assecondando il superfluo solo quando è strettamente necessario. Ne gioveremmo tutti in termini di salute, pace e serenità.